e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video del vostro free time non posso fare perfettamente il saluto perché ho le mani occupate con una regola videocamera con una regola questo e oggi sono qui per un altro video di un altro luogo abbandonato in questo caso si va in Toscana con l'associazione che frequento e mi sto preparando per partire anzi sono già uscito di casa e oggi si tratterebbe di una fortezza abbandonata forse anche della parte antica del paese giù in Toscana a Ripafrata che sarebbe in provincia di Pisa San Giuliano Terme a quanto ho capito vabbè ragazzi ora si parte ci vediamo dopo arrivati a Ripafrata adesso sono le 9.32 non male sto paesino si vede proprio che siamo in Toscana è diverso dalla Liguria si vede vediamo un po' che ci aspetterà qui tra me c'è Sandro De Pellocetti che è un nostro ormai guida espertissima in queste occasioni e poi ci sono anche Enrico e Francesco che ci daranno una mano soprattutto durante l'imminente festa a fare le distributate sono entrambi lavorate in storia vero? in storia proprio storia che come c'è? si c'è un panino ma wow entrate entrate qui c'è la strada ma è buonissima a tracco sotterraneo a livello dell'acqua proprio a livello d'altezza dell'acqua vedi lì c'era la strada di sinistra oh da qui è perfetta l'avvisuale sulla torre lassù molto meglio di prima si sale per arrivare alla rocca da questo sentiero di bosco mi gasa tantissimo che si arriva eccola la si a questo punto mi assomiglia troppo alla vegetazione di follo bello un'altra cinta muraria ci siamo però qui ci rendiamo veramente conto di ciò che stiamo parlando secondo me dentro molto bello quindi una, due e tre lì si infilavano le bocche di fuoco e si sparava esatto appunto probabilmente a 180 gradi si riusciva a coprire immaginate una volta qui dentro durante un conflitto che cosa potesse essere questo luogo quindi sopra la sua testa si alza la testa c'era una cappa di aspirazione del fumo il fumo e poi arrivano a giù in fondo ci sono altre bocche da fuoco e nel farlo dovevano percorrere questo corridoio qui abbiamo sentito spesso parlare Francesco, Sandro, Luca, Pisa, Firenze tutta la storia della Toscana è una storia di comuni quindi di città in lotta tra di loro e ripapratta ha un'importanza notevole proprio perché abbiamo detto si trova sul confine questa cosa è chiara soprattutto da qui dove vediamo qui la rocca pisana e dall'altro lato invece la rocca lucchese quella giù è nozzana e c'è un'altra torre integra addossata alle mura dall'altra parte che vi invito a immaginarvi quindi si diceva triturrito appunto perché c'era tre torri lungo la diagonale maggiore questa torre e quella erano dotati di procinto quindi avevano la propria scelta muraria interna qui, di sotto e di qua ho appena avuto una visione del panorama migliore cioè non può esserci nulla di meglio veramente una visione stupenda avete potuto vedere mi ha deliziato due palle di cannone sono rimaste incastrate nel muro di pietra della rocca eccoci qua questa torre la visitiamo per quanto possibile wow scanzo? ecco qua dovete fare foto mi levo? no 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 io ho fatto eccoci qua 1 2 3 1 2 3 è fresco si faccio il remonto qui wow veramente bella non ho mai visto niente del genere si vede in alto ci sono ancora delle rimanze di travature trape di legno e questo è stato un po' di pietra perchale